Adesso viene un altro super coach, ci tenevo a fare la testimonianza di tutti perché secondo me sono persone veramente molto ispirazionali che hanno da giovani fatto qualcosa di importante e quindi c'è Ugo Parodi che è il produttore Mosè Kuhn, mi sembra che è un tema che sta venendo fuori, comune ed è uno dei motivi anche per cui mi è piaciuto Ugo da quando subito l'ho conosciuto, è che alla fine è importante fare business con delle persone di cui ci si fiducia e le relazioni umane sono al centro di tutto, questo non so se succede uguale negli Stati Uniti e Inghilterra ma sicuramente almeno in Italia è importante e Ugo secondo me è una bella persona della di tutto, non so se avrà successo la sua start up che non è neanche più una start up però sentiamo che cosa c'è da raccontarci sul fallimento. Grazie, sì buonasera a tutti, io ho diviso questa storia in quattro capitoli, che sono quattro lezioni che ho imparato frutto di quattro errori, parto proprio dalle persone, i primi due capitoli sono la passione, condividere la passione con le persone vicine e con delle persone non vicine. Comincia nel 2003 questa esperienza all'università, ero appassionato di video, di produzione di video, non esisteva ancora YouTube che poi sarebbe uscito nel 2006 e all'università avevo deciso di fare una tesi sui video online. Ero appassionatissimo all'idea che questo video, questa cosa che era ancora un fenomeno di nicchia, sembrano tantissimi anni fa, sono pochi anni fa, ma era completamente diverso, non esisteva YouTube, esisteva solo Google Video, c'erano i primi esperimenti di video streaming, i video più visti avevano mille visualizzazioni, avevo deciso di fare un lavoro, una tesi su questa cosa, chiamandola il video, il futuro della televisione. Vado dal preside, miro subito in alto il preside della facoltà, che era un grandissimo appassionato di arte, di teatro, di cinema, presento questa tesi pensando di condividere la passione e l'entusiasmo per quella che pensavo era un'intuizione bella, interessante, qualcosa di nuovo. Il preside mi risponde subito, guarda, io non penso che il video sia il futuro della televisione, non penso che il video anzi proprio avrà un futuro così per come lo immagini e internet, se proprio lo devo dire, dà dei problemi nello streaming, siamo nel 2003, per cui non ha nessun senso fare una tesi sul video streaming, se proprio vuoi con me devi fare una tesi su Chaplin. Allora, la prima lezione è stata una grandissima frustrazione nel trovare un muro enorme rispetto a una grandissima foga, a una grandissima passione su un'idea che mi sembrava interessante. La prima lezione è stata quella che se hai una cosa in testa devi trovare il modo per portarla avanti. Ho girato altri tre professori finché sono andato a botta di sicura, da quello che sapevo mi avrebbe chiesto la tesi soltanto il giorno della proclamazione, durante la laurea il preside vede la tesi, mi interrompe unico su 30 tesi la riproduzione di questo video che avevo fatto mettendo in sequenza i primi video virali che erano stati fatti online. Tutti, diciamo, la mia famiglia distrutta perché appunto l'unico che aveva avuto la tesi interrotta durante la proclamazione, io devo dire con un gran sorriso ero riuscito a presentare quello che mi sembrava doveva essere la tesi che dovevo fare, il video era il futuro della televisione. Prima lezione era proprio quella della passione, non è detto che se vedi una cosa sia una passione, gli altri, anche se gli stimi, condivideranno quella passione. La seconda esperienza è stata ancora più dura perché l'ho vissuta con dei ragazzi, con dei miei collaboratori, andiamo avanti, siamo nel 2007-2008, porto avanti tutto questo progetto e l'idea era quella di unire la produzione di video digitali con la distribuzione dei video online. Avevo creato il primo team, ho lavorato due anni, tutto con delle mie risorse che erano pochissime, per cui qualsiasi risparmio era andato nell'azienda per ripagare questi collaboratori, finalmente trovo il primo investitore, prima operazione in assoluto, ancora non era mai stata fatta un'operazione di venture capital nel sud Italia, ci credo tantissimo e la trattativa dura circa due anni, dal 2008 poi a fine del 2009, proprio alla fine del 2009 a ottobre avevo questo team di quattro collaboratori, uno nel mio braccio destro storico, l'altro era un creativo di riferimento fondamentale nel mio team, avevo presentato questo business plan da mesi, da anni con questo team, il progetto, tutto quanto, a un mese dalla firma del round, chiamiamoli D ed M, questi due amici seguono le fidanzate, una in Spagna, spagnola dice che o si trasferiva in Spagna o l'avrebbe lasciato e l'altra a Roma. Io ero un mese dalla firma, era da quasi un anno e mezzo che cercavo con le mie risorse e con quest'idea del round che stavamo facendo, loro semplicemente hanno fatto una scelta, della quale poi si sono pentiti, ma devo dire in quel momento ho vissuto una frustrazione ancora più grande, che è stata quella che finché lo fai col preside della facoltà che non crede nel video online, ma se poi il tuo team con il quale lavori due anni, due persone fondamentali, preferiscono le fidanzate al progetto, ti pesa. Devo dire però è stata una lezione utilissima perché ho capito che ero in grado di fare finta di niente, rimboccarmi le maniche lo stesso, ripensare il team raccontando all'investitore che comunque avremmo fatto quello che dovevamo fare, a dicembre, un mese dopo che loro hanno lasciato l'azienda, chiudiamo la prima operazione di venture capital nel sud Italia, 650 mila euro e nasce Mosaicon nel 2010. L'idea di un'azienda che univa la produzione del video in maniera industrializzata, scalare, grazie a una piattaforma, con la distribuzione dei video in un futuro che pensavamo sempre di più, avrebbe visto il video non più nei broadcaster in tv ma online. Andando avanti nel tempo, la terza lezione è stata una lezione di business. Le lezioni di business per me sono sempre state legate personalmente alla mia idea di innovazione e a un problema importante secondo me di chi fa innovazione che è il time to market, quando è il momento giusto per un'innovazione. E questo è stato uno degli esercizi più difficili che ho dovuto fare nel lavorare con me stesso e che poi io penso che sia il problema di chi fa un prodotto, di chi fa innovazione. Vedi tutto il potenziale che hai, ci metti tutta la passione e spesso passione e potenziale ti portano a un futuro che magari non è quello giusto. Siamo stati una delle prime società ad aver inventato una piattaforma, in Europa eravamo due, poi ne arrivarono degli altri, che dava la possibilità alle aziende di pagare i video con un costo per visualizzazione. Pagavi la distribuzione di un video soltanto se quel video veniva visto da delle persone. La metrica, non voglio andare troppo sul tecnico invece, ma la metrica principale era invece quella delle impression, è tuttora quella dell'impression, cioè la stessa metrica dell'editoria. Se ho una pagina che raccoglie due milioni di utenti al giorno, avrò due milioni di impression, la faccio molto basica, e vuol dire che più o meno due milioni di persone sono potenzialmente esposte a quel messaggio. Noi invece vendevamo le più, cioè noi ti vendevamo il fatto che quel video era stato visto da un utente che consapevolmente decideva di cliccare su un video, avviare la riproduzione e guardare quel contenuto. Entusiasti di questa cosa e pensando che era oggettiva, abbiamo cominciato a proporre al mercato. Il mercato non c'era perché ancora era una metrica che praticamente non esisteva e scopro che in realtà il mercato non era assolutamente interessato al costo per view, era interessato a continuare a fare quello che era abituato a fare, ad avere un parametro, una metrica che era la stessa che usava da anni, che era la stessa dell'editoria, senza guardare se poi quella metrica era giusta o era sbagliata. E noi da tecnici che non riuscivamo a capire questa cosa, abbiamo vissuto una grandissima frustrazione nel capire che alla fine il mercato non è assolutamente detto che premi il prodotto che funziona o il prodotto che si pensa sia giusto. Le dinamiche del mercato spesso sono totalmente diverse, le logiche del mercato, da quelle che poi chi fa un prodotto e chi da tecnico valuta i plus di quel prodotto ritiene che siano le cose giuste. Quella forse è stata la prima volta che su una cosa così forte ho dovuto fare un passo indietro da tecnico e ho dovuto convincere il mio team che dovevamo raccontare, sacrificare quel valore che era fondamentale e trasformare tutto in impression, per cui dare ai clienti quello che volevano. Per fortuna questa cosa ci ha pagato, negli anni abbiamo fatto circa 10 milioni di fatturato su questo prodotto con una marginalità che all'inizio era del 94%, una bellissima storia per quella che poi è servito per finanziare l'altro pezzo dell'azienda che era l'industrializzazione del contenuto video e utilizzare la creatività per produrre contenuti video. Il quarto capitolo è una lezione che un po' ha rinnegato e rinnega la lezione precedente del fare dei passi indietro ed è forse una delle sfide più importanti che io oggi mi pongo anche con un certo livello di complessità. Purtroppo ho imparato che nel mondo dell'innovazione, specialmente nel mondo digitale, stare un passino indietro per seguire il mercato ogni tanto ti può dare delle enorme mazzate, perché se non sei avanti e non riesci a trovare le risorse per stare avanti, prima o poi arriverà qualcuno che ha trovato le risorse per stare più avanti di te. Andando in questo prodotto, questa distribuzione che facevamo, principalmente seguendo proprio quello che era il mercato, facevamo due cose. Ti davamo le impression e poi facevamo in modo, nei primi anni di YouTube, di garantirti delle visualizzazioni sui video di YouTube. In realtà alle aziende non interessava avere degli utenti che guardassero il video, interessava avere un numerino sotto un video di YouTube che diceva che quel video era stato visto da 2 milioni, 3 milioni di persone. Lo facevamo in maniera qualitativa, ma quello era il parametro che interessava alle aziende. Un bel giorno YouTube, in un giorno, decide di non dare, di non conteggiare più le views che avvenivano su network esterni a YouTube. Per cui ci troviamo in un giorno, in 24 ore, con il principale valore che offrivamo ai nostri clienti che aveva completamente perso di qualsiasi significato, perché le view che noi generavamo, fra l'altro pagandole, distribuendole su altri siti, ora non spiego come funziona questa parte della nostra tecnologia, non avevano più senso perché non conteggiavano quelle view su YouTube. E là devo dire, rinnegando anche il primo capitolo di questa storiella, ho ritrovato il secondo delle persone, ho vissuto quello che vuol dire avere un team energico, compatto, costruito negli anni, che in un secondo, dopo 24 ore, con un mega problema da risolvere, in tre giorni è riuscito a trovare una soluzione. Abbiamo capito che dovevamo sviluppare un sistema proprietario, abbiamo in quelle tre giorni fatto una full immersion senza sosta, che ci ha permesso di accelerare ancora di più su quello che poi è il core oggi di Mosaicon, che è la produzione dei video, una cosa che nessuno aveva fatto, capendo che il mondo della distribuzione sarebbe sempre di più stato limitato a pochissimi player, oggi Facebook e YouTube cubano circa l'85% delle visualizzazioni, e che tutta la tecnologia che avevamo sviluppato e l'esperienza che avevamo fatto sul video e sulla distribuzione doveva andare in una direzione sempre di più di una piattaforma proprietaria, che di fatto era Mosaicon. E praticamente in una settimana abbiamo rivisto tutta una strategia e un prodotto che avevamo costruito negli anni e che appunto in pochissime, in quasi 24 ore, avevamo dovuto rivedere. Questa però è stata per me forse l'esperienza che sul momento è stata più difficile, ma che poi subito dopo mi ha dimostrato due aspetti fondamentali che poi secondo me sono il cuore di un'azienda che deve fare innovazione. Avere delle persone con le quali condividere soprattutto le difficoltà, è facile condividere i momenti facili, è difficile condividere i momenti difficili. E quando ci sono i momenti difficili sono poche le persone che stanno veramente a fianco e che soprattutto non perdono l'energia e la passione. Trovare quelle persone che nei momenti difficili ti stanno accanto per me fa la differenza di un'azienda. L'altro tema è stato quello della giusta velocità. Per me innovazione è una battaglia costante fra andare avanti ma trovare il momento giusto e cercare di essere sempre in quell'equilibrio fra il futuro che vuoi raggiungere e il presente, il mercato, le regole, gli standard che non sono in linea con quel futuro. Quella secondo me è la principale sfida che chi fa innovazione deve affrontare. Grazie a tutti.